Il comandante Mauro Serafino Niola è il nuovo capo alla guida del distaccamento aeroportuario di Alghero. Quali sono le emozioni e i commenti a pochi minuti dal passaggio di consegna? Sicuramente una grande emozione perché assumo un comando di un distaccamento che ha un passato di grande prestigio e anche un futuro di prestigio ritengo, proprio perché essendo la base militare del nord Sardegna dove esiste anche un aeroporto, quindi è un compito sicuramente molto delicato, molto attento per l'attività istituzionale che l'aeroporto è deputato a svolgere. Cercherò di affrontarlo con grande impegno perché il personale si merita che ci sia l'impegno sia da parte del comandante che l'impegno da parte di tutti.